Un saluto a tutti cari amici e benvenuti sul mio canale. Forza ragazzi con le iscrizioni che stanno un po' calando, quindi se siete nuovi del canale ma vi piacciono i miei contenuti vi chiedo veramente di iscrivervi per aiutarmi a farlo crescere anche sulla fiducia. E nel video di oggi voglio mostrarvi una partita del mitico Rudolf Spilman perché come sappiamo ieri Alta Tastì 2024 è stato giorno di riposo e allora ho pensato di proporvi questa partita breve ma spettacolare di Spilman che oltretutto mi avevate richiesto. Prima di tal c'era Rudolf Spilman, un attaccante veramente geniale. Oggi lo vediamo all'opera contro Aaron Nintsovich nel loro match tedesco del 1905. Like al video e partiamo subito. Perché di bianco Spilman apre con e4, Nintsovich risponde con c6 che è la difesa Karokan, arriva d4, d5 attacca al centro, cavallo in c3 questa è la variante classica, d per e4, il cavallo ricattura in e4, Nintsovich sceglie la variante con cavallo in f6. Ora attenzione perché oggi come oggi la continuazione principale del bianco è il cambio dei cavalli, ve la faccio vedere velocemente. Il bianco cambia i cavalli in f6 con scacco, il nero riprende col pedone e, c3 a proteggere il pedone in d4 perché cosa vuole fare il bianco? Vuole giocare alfiere in d3, donna in c2, la batteria che attacca h7, non ci sono problemi di scacchi sulla colonna centrale perché il cavallo si porta in e2, l'alfiere scuro in e3 e il bianco arrocherà corto con grandi attacchi sui fianchi. Invece Spielman dopo cavallo in f6 di Nintsovich ha tutte altre idee, gioca il cavallo in g3, che comunque è la seconda mossa più giocata, e Nintsovich gioca i5. Pensate, dopo 5 mosse, in questa posizione, la partita diventa originale. Veramente bei tempi e quindi i due giocheranno con la loro testa, niente preparazione da computer. Spielman gioca a cavallo in f3, seconda difesa del pedone, e per d4 il cavallo ricattura in d4 l'alfiere in e7. La stessa idea del bianco per arroccare corto il prima possibile, infatti arrocco corto del nero, arrocco corto anche del bianco. Ora Nintsovich gioca re in h8, probabilmente una mossa profilattica per evitare gli attacchi dell'alfiere sulla diagonale chiara. Spielman gioca b3, mossa migliore, che cosa vuole fare? Vuole piazzare l'alfiere in b2 per attaccare sul lato di re. E allora, naturalmente se ne accorge Nintsovich, cavallo in g8, cosa vuole fare? Vuole lasciare la casa f6 all'alfiere per contrastare quello scuro del bianco. Alfiere in b2, cavallo in d7, vedete, nuovo controllo sulla casa f6, arriva. Cavallo in d, che va in f5, fa delle minacce terribili, che minaccia lo scacco di vincere la qualità. Minaccia anche, come minimo, di togliere al nero la coppia degli alfieri, e allora l'alfiere si porta in f6 ben protetto, e Spielman tira fuori un'idea straordinaria. Alfiere in a3, e come mai? Nintsovich cattura la torre, la donna ricattura con tempo, guardate la donna sulla diagonale principale, minaccia scacco matto in 1, e allora chiude questa diagonale Nintsovich, sviluppando il cavallo in f6, liberando l'alfiere. A questo punto si può riprendere la qualità, ma Spielman questo non interessa, guardate come continua. Torre in d1 attacca la donna, la donna si porta in e8, e pensate, è già finita. Siamo arrivati al nostro quizzone. Qual è, secondo voi, la fortissima continuazione a disposizione del bianco? Mettete pure in pausa, e da voi la parola. Ritorniamo subito a noi. Dopo la torre, Spielman sacrifica anche il cavallo, è un sacrificio che è forzante dire poco. Vedete, attacca la donna, e la donna non ha case dove spostarsi. Per non perdere la donna, Nintsovich è costretto ad accettare il pezzo. Re che cattura in g7, arriva un'altra mossa straordinaria. Torre in d6, è il secondo attacco sul cavallo inchiodato in maniera assoluta sul re. Sta per arrivare cavallo in h5, che sarebbe decisiva. Allora, al fiero in e6 di Nintsovich si interpone per evitare l'attacco. Ma cavallo in h5 con scacco, arriva lo stesso. Il re è costretto a scoprirsi ancora di più. Re in g6, arriva la mossa decisiva. Donna in e5, dopo 19 mosse. Nintsovich abbandona. Come mai sta per arrivare donna in g3 con scacco, e poi il matto forzato? Il nero abbandona, ma noi il matto lo vogliamo vedere. Come sarebbe continuata la partita? Donna in e7, la difesa migliore, anche se purtroppo non sufficiente, cercherà proprio di difendersi dallo scacco da g3. Ma il matto c'è lo stesso. Addirittura c'è un'idea ancora più straordinaria. Perché se il bianco gioca donna in g3 con scacco, ci vuole cavallo in g4, che non è protetto, perché vedete, anche l'alfiere è inchiodato. Alfiere per cavallo, con la terribile minaccia di scacco di scoperta. La donna si interpone in g5, ma arriva a f4. Qui ci sono svariate continuazioni. Ma se la donna, tra le quali anche f5, ma poi questo cattura con scacco, il matto è forzato. Alfiere in e2, scacco di scoperta. Re in e5. Alfiere in d3. Una rete di matto straordinaria. Ma ritorniamo a questa donna in e7, perché guardate quest'altro matto. Alfiere in d3 con scacco. E allora ci vuole cavallo in e4. Il micidiale, scacco da dietro. Donna in g7 con scacco, con il bianco che sacrifica il terzo pezzo. Il re costretto a catturare. Guardate, alfiere in e2 con scacco. Il povero re sta marciando verso il matto. Re in h4, g3 con scacco. Re in h3. Alfiere in f1. La via di fuga è chiusa. Scacco matto. E allora, vedete come Nimzovic, uno dei miti della storia degli scacchi, è stato spazzato via in 19 mosse. E Spielman veramente è stato un genio. E merita di essere più spesso sul canale. E noi naturalmente ce lo porteremo. Spero proprio che questa partita vi sia piaciuta. Mi raccomando, se siete nuovi, se non siete ancora iscritti, iscrivetevi al canale per letarmi a farlo crescere. Io come al solito vi ringrazio tantissimo per l'ascolto. E naturalmente ci vediamo domani con un nuovo video. A presto!